freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance c'era emanuela formisano che voleva parlare del nomadismo digitale direi che allora anticipiamo il talk di emanuela è grande grazie per la disponibilità e per la prontessa di riflessi un talk super improvvisato uscito ieri sera quindi non l'ho mai fatto nella vita quindi mi batte il cuore a 2000 e ho preso un po spunto da il talk di lara sulla sua esperienza di co living quindi l'idea era semplicemente quello appunto di affrontare insieme quindi aiutatemi per favore e la tematica del nomadismo digitale il mio intento è semplicemente raccontarvi quella che è la mia esperienza tutto qui ma qui invito carola perché così raccontiamo un pochino come ci siamo conosciute e proprio grazie a una di queste esperienze allora io parto dal raccontare il motivo per il quale ho scelto di fare la freelance e uno dei punti chiave è stato io decidi cioè voglio fare la freelance perché voglio avere il tempo la libertà di organizzarmi e di poter viaggiare lavorando quindi questa è per me una motivazione diciamo principale di di questo lavoro che mi spinge tutti i giorni appunto a impegnarmi sempre su anche nei momenti di picco ovviamente del freelance quindi quando appunto c'è si è creata l'opportunità di fare un primo viaggio cosa è successo che come come è andata la la cosa esiste un gruppo su su facebook che si chiama nomadi digitali italiani io nel fare le ricerche su internet nel momento in cui appunto dovevo capire quale potesse essere un tipo di lavoro che mi aiutasse a viaggiare e lavorare contemporaneamente e poi che ha anche grazie attraverso dei libri ho scoperto questo mondo del nomadismo digitale e facendo ricerca scoperto che c'è anche un gruppo facebook che si chiama nomadi digitali italiani e il fondatore si chiama gianni bianchini e ormai a questa community di 14 mila persone dove si ci si scambia informazioni confronto si fanno domande per capire un pochino come funziona lavorare e viaggiare contemporaneamente all'interno di questo mega gruppo ci sono dei gruppi prevalentemente da alcune città italiane tra cui anche quello di roma mi sono iscritta a questo gruppo telegram dove organizziamo spessissimo e cene aperitivi per vedersi e confrontarci e soprattutto anche lavorare insieme all'interno dei coworking per non lavorare sempre solo da casa e tutto quello ovviamente che è il valore di lavorare insieme non lo sto a ripetere perché l'abbiamo già detto abbondantemente e quindi attraverso una storia di carola su instagram te la ricordi fantastico e noi ci siamo conosciute quindi ad una cena organizzata grazie appunto al gruppo telegram di roma di nomadi digitali a roma dove appunto c'era lei come tante altre persone che che vivono e lavorano a roma e hanno questa ambizione diciamo insomma di lavorare e viaggiare e ci siamo conosciuti a questa cena abbiamo fatto questa cena poi ognuno per i fatti propri fino a che però ci siamo seguite su instagram e un giorno lei pubblica una storia su instagram dove stava cercando delle persone per andare in marocco perché appunto stava organizzando questo questo viaggio con un'altra persona ancora dovevano riempire un riad che è una casa tipica marocchina che avevano già individuato e io ho detto fighissimo anche perché il marocco è comunque una meta molto economica quindi anche last minute sarebbe stato comunque molto tranquilla da organizzare e quindi abbiamo fatto questa esperienza di nomadismo digitale in marocco siamo state due settimane a cavallo diciamo con il ponte dell'otto di dicembre e abbiamo avuto la possibilità quindi sia di lavorare all'interno di questo riad però nello stesso tempo anche di organizzarci per andare sia a visitare ovviamente la cittadina dove stavamo noi stavamo ad essa guira che è una cittadina che sta sull'oceano e sia comunque con il ponte dell'otto da bravi italiani ce lo siamo preso per girare ovviamente già alcuni punti del 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 paese quindi questa questa è stata una prima esperienza che abbiamo che abbiamo condiviso poi personalmente appunto ne ho fatto anche un'altra che è stata Fuerteventura dove sono stata molto più tempo un mese e mezzo fatto da gennaio fino a metà febbraio e lì è stata una situazione ulteriormente diversa perché comunque stando così tanto tempo le settimane erano dedicate prevalentemente al lavoro però all'interno del fine settimana comunque dei ritagli dei periodi di tempo insomma delle giornate lì per visitare l'isola per andare comunque a scoprire un pochino che cosa c'è intorno quindi questa è la mia esperienza molto improvvisata molto buttata così i pro e contro il pro è quello di riuscire assolutamente a visitare dei paesi delle destinazioni in maniera molto lenta quindi non con la stessa ansia con la stessa diciamo foga che uno ha quando si va a visitare per turismo quindi riuscire a stare più tempo e all'interno appunto di una destinazione e questo è sicuramente diciamo un pro perché appunto tu ti dedichi la settimana lavorando e nel fine settimana ad esempio o al termine della giornata o secondo un'organizzazione comunque che decidi di darti hai la possibilità appunto di poter visitare la condivisione con gli altri all'interno del co-living per me è stata moltissimo la condivisione con le altre persone nella casa perché sono nati dei progetti delle collaborazioni e poi perché abbiamo lavorato insieme quindi è stato figo e ti conosci in un modo diverso è bello è stata una bellissima esperienza questo è un pro per me valore aggiuntivo enorme i contro connessione la connessione non è stata semplice da gestire neanche gli spazi perché ti devi un po' adeguare alla casa il riad nostro perché eravamo due riad due case diverse era enorme però prendeva solo in alcuni punti chi aveva necessità di call chi no quindi dovevamo un po' gestirci si fa e comunque a essa uira c'era anche un co-working fighissimo quindi dipende anche dalla destinazione cosa offre però questo è stato un po' una difficoltà da gestire quando si cerca di andare appunto a fare esperienze di questo tipo comunque si cercano delle destinazioni che comunque oltre alla casa ti offrono anche possibilità di lavorare all'interno dei co-working in modo tale che comunque puoi alternarti a lavorare puoi scegliere dove andare a lavorare sia per una questione proprio di organizzazione interna alla casa ma anche semplicemente una questione di ambiente per quanto riguarda magari la produttività lavorativa quindi assolutamente è un aspetto da tenere in considerazione i contro non ce ne sono forse un po' la stabilità sul portare avanti delle attività è bello organizzare un viaggio però quando sei là vuoi viaggiare come fai a concentrarti sul lavoro startene chiuso nella casa o stanza che hai scelto nel coro che hai scelto che fuori c'è tutto questo bel luogo che hai scelto dove andare a passare del tempo e non lo puoi vedere perché sei dentro a lavorare che si fa determinazione determinazione e supporto reciproco la disciplina è fondamentale questo sì perché è un attimo che ti distra veramente io a forte ventura alzavo gli occhi l'ho fatto in un periodo diverso da lei alzavo gli occhi vanno surf fichissimo vado no 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 non andare no non puoi ok quindi disciplina assolutamente ma insieme riesci a farlo maggiormente poi è il weekend è fantastico sai che nel weekend tu organizzi e fai quello che vuoi da professional organizer dico anche che ci vuole l'organizzazione quindi in realtà è comunque riuscire a strutturarti le giornate lavorative e le settimane di conseguenza in base a quando stai secondo quelle che sono le due priorità lavorative per assecondare anche le due priorità personali quindi sicuramente anche un termine appunto di organizzazione e i fine settimana aiutano tantissimo sicuramente quindi concentrarsi durante la settimana per poi ritagliarsi di fine settimana e per scoprire un pochino la le cose io e michela abbiamo l'abitudine di passare almeno un paio di settimane tutti gli anni a novembre a volte riusciamo a farlo anche a gennaio a barcellona siamo innamorati di quella città ci sarebbe sempre piaciuto trasferirsi la ma c'è tutta una serie di condizioni oggettive che lo impediscono quindi abbiamo scelto questa modalità di vivere lentamente la città secondo me la risposta alla tua domanda è non vedere il fatto che fuori c'è la vacanza come un meno è un più cioè tu lavori poi quando hai fatto quello che devi fare ti vai a fare una tappa ti vai a bere una sangria ti vai a fare una passeggiata nel weekend hai tutto il tempo libero via dicendo quindi è un plus non è un qualcosa che ti toglie anzi cioè arrivi in fondo alla giornata che dici dai adesso usciamo vai 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 e quindi è un grandissimo aiuto la butto lì il nomadismo digitale nei difetti non tanto per noi quanto per le città dove si va cioè io sto sto tenendo d'occhio questo argomento da parecchio tempo chi va spesso a più risorse rispetto a chi vive lì il nomadismo digitale in parte e tutto il fenomeno airbnb sta stravolgendo certe città ma anche in italia c'è bologna da quando c'è ryanair i voli di ryanair se capottata quindi se prima bologna campava affittando le camere agli universitari adesso gli universitari non le trovano neanche ma la gente non riesce ad affittare le case se non pagando cifre esorbitanti via dicendo quindi io si adotto questa modalità però mi interrogo anche su cosa posso fare per continuare a supportare la città che mi ospita perché a volte vedo nel caso di barcellona ad esempio c'è il quartiere del poble no che è un quartiere frontemare una volta erano tutti capannoni industriali quindi una zona tendenzialmente povere poco ambita dove si sono insediate molte aziende 2.0 3.0 n.0 e approfittando anche della dell'appetibilità dei terreni degli immobili via dicendo e quindi ha creato un gran movimento il problema è che la gente del poble no si trova buttata fuori dal proprio quartiere cioè chi ha la nonna che muore gli lascia la casa può continuare a vivere nel poble no se no ti ritrovi in situazioni leggevo perché io ho l'abitudine di leggere quotidiani spagnoli continuamente gente che raccontava che gente di barcellona che si è iscritta un corso di ceramica ha detto eravamo in 10 9 erano stranieri e hanno chiesto se il corso si poteva fare in inglese e non in spagnolo a questo punto io penso cosa vai a fare la se poi realtà ti porti il tuo mondo lì e quindi c'è secondo me bisogna trovare il giusto equilibrio poi io sono un amante delle cose locali della cucina locale per cui vado nelle trattorie non vado da mcdonald per dire un nome qualsiasi o la rock caffè per dire quindi riflettiamo anche su questa su questa cosa è un lusso che abbiamo ma teniamocelo caro e vediamo di non aggredire chi ci ospita quindi siamo ospiti comunque questo assolutamente sì allora noi abbiamo fatto un tipo di nomadismo un po diverso nel senso che qui si parlava di lavorare il giorno uscire a fine giornata il weekend ecco noi invece abbiamo scelto un formato un po diverso più adatto alle nostre esigenze ovviamente allora praticamente noi stiamo via di solito un mese e passiamo questo mese finora in varie città europee e la mattina quindi metà giornata lavoravamo e l'altra metà invece andavamo girare la città questo ci aiutava perché metà giornata dicevi ok adesso mi impegno faccio questa cosa dopo pranzo usciamo andiamo e vediamo e questo ci è piaciuto di più rispetto che magari fare meno tempo ma più vacanza perché in questo modo un po come si diceva prima si può vivere meglio il posto sapere di avere un mese vuol dire che ti prendi il tuo tempo per visitare un quartiere per andare a vedere una zona anche solo andare al parco e stare lì qualche ora comodo su una panchina sono tutti lussi che quando fai la vacanza veloce ovviamente non hai e quindi noi abbiamo scelto questo format di metà giornata e finora ci troviamo bene anche così ecco quindi era per dire che è anche un'altra cosa noi andiamo si è parlato di co-living co-working eccetera ecco nel nostro caso siamo persone introverse quindi il miga gruppo non ci attira però affittiamo tipo degli appartamenti ovviamente controlliamo che abbiano una buona connessione e quant'altro e lavoriamo di fatto in appartamento quindi da casa senza bisogno di andare a cercare dei co-working quindi si può fare ecco anche questa tipologia poi quando magari la connessione non c'era come tipo quando siamo andati in montagna che lì è un po più complicato trovare il wifi abbiamo preso una scheda quindi una scheda che sapevamo che prendeva allora ti prende la scheda per quei mesi che serve riesci un po fare solo fare le prove vedi che funziona ti prendi giga che ti servono e usi quella quindi l'importante è un po' attrezzarsi dopo posti più lontani mentre la connessione si va un po' a speranza però anche lì sempre avere dei piani B quindi ok posso prendere una scheda locale posso prendere un wifi mobile sono cercati per vedere le esigenze che possono esserci nel gruppo oppure numero digitale punto ci siamo c'è spesso tanto focus sul co-living co-working troviamoci non c'è solo quello ognuno poi trova il proprio percorso il normandismo perché c'è chi ha bisogno di quell'esperienza a noi un po' quasi fa un po' paura questa cosa di ritrovare se vogliamo il nostro posticino lo facciamo a nostro modo dopo gli incontri magari si fanno lo stesso adesso a Parigi abbiamo incontrato Roberto Pasini, Calamune e Chiara Gandolfi che amici ecco amici di freelance camp così quindi gli incontri si possono fare anche in questo modo magari ci si informa chi c'è in quella città anche cose un po' più piccole poi dopo nascono belle chiacchierate come come stato anche per noi ecco in realtà la mia esperienza è molto simile alla loro nel senso che per me il co-living è molto vicino a un girone infernale nella mia percezione di vita proprio quindi quando ho deciso di fare dei periodi all'estero ho preso casa o insomma sono stata in ostè cioè ho preso delle soluzioni cui sostanzialmente la gestione della quotidianità fosse più semplice e indipendente credo anche io molto nel fatto che il nomadismo digitale sia poi ognuno lo vive ovviamente come meglio crede per me per la mia esperienza è una grandissima occasione per vivere in un paese come se fossi un abitante di quel paese perché credo che la vera occasione sia aprire la mente e capire che nel mondo ci sono infiniti modi di vivere quindi per quanto mi riguarda io cerco il più possibile di adattare le mie giornate un po ai ritmi del paese in cui sono e di integrare delle attività ecco io spesso mi iscrivo per esempio ai corsi di lingua per evitare l'effetto facciamo il corso di ceramica in inglese in spagna e ecco un altro spunto che do è quanto veramente possiamo aprire anche le opportunità lavorative all'estero ovviamente per chi ha interesse e lavori compatibili una cosa interessante da fare per esempio è appunto cercare dei co-working o cercare delle community di persone che sono magari local e vivono nel paese e contattarli incontrarli stringere magari delle anche solo prendersi un caffè e scambiarsi dei pareri però veramente amplia tantissimo anche sia la propria visione del proprio lavoro ma anche la possibilità di creare collaborazioni più ampie quindi questo è un altro pro io sono praticamente faccio metà anno in austria metà anno a venezia o a periodi di un mese due mesi e due mesi una settimana a seconda del clima del degli impegni privati delle voglie però praticamente questo modo o praticamente due case una qua una la che riducendo al minimo indispensabile nei due posti però comunque c'ho la connessione siede qualche di là per dormire per per vivere praticamente vivo due mezze vite di qua e di là insomma